Io me l'ho detto, andavo a vedere un po' di orologi a Bologna, avevo detto andavo a vedere un po' d'orologi a Bologna. Eeeh, mara mio, mara mio, mamma mia, è stata integrata, ancora sono, dove sta il defibrillatore? C'è stata l'infermedia, io sono andato. No, 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 no. La pastione annulla, passione contro dolore fa zero, passione verso sdolore uguale zero, passione più dolore segno positivo, passione meno dolore ma proprio sotto a zero. ha detto vieni su stiamo su a mangiare la cosa ma chi ha la pasta lì c'ho la shanghai che la mi data c'ho la shanghai piombata c'ho la shanghai piombata d'altronde a gravità la gravità la gravità che le qua vede un po' se le spasse di mare complicata z8 che mamma a 60 sacchi si ha comprato a 60 sacchi ha comprato la z8 come si fa per santa tanto come si può fare tutto secondo me si stanno male oh ma come stai? stanno su? vi beccavo dopo? eh i registi sono un po' stati sui punti di riferimento sono birilli che quando incontri ti danno una bella una radizana c'è stanno i selvaggigli a tosti se non dov'è sta salsa? ha la salsa